Eccoci siamo insieme, stavamo parlando della bella vittoria di oggi dell'Inter contro il Chelsea 2 a 1 con reti di Jovetic e di Perisic. Per 70 minuti l'Inter ha espresso un ottimo calcio e durante questa partita si è messo in evidenza, al di là del gol, proprio Jovetic che a questo punto si candida anche per restare nella prossima stagione. Sembrava destinato alla partenza, sembrava destinato all'addio, era quasi certo, invece adesso si parla di una sua possibile permanenza. Sì, più che altro ha fatto intendere lui quelle che sono poi le sue intenzioni, perché dopo il gol di fatto ha esultato battendo la mano sul petto, indicando il terreno, dicendo io resto qua, quindi un'indicazione buona quella di Jovetic in fatto di mercato, c'è da capire che cosa ne pensa l'Inter, che cosa ne pensa Spalletti, anche perché comunque il Siviglia resta in forte pressing sul Monte Negrino, ricordiamo Jovetic ha giocato in Andalusia gli ultimi mesi della scorsa stagione, ha fatto bene, il Siviglia lo vorrebbe riprendere, però anche qua, come spesso capita, il discorso dei soldi fa la differenza, al momento il Siviglia fa una valutazione diversa rispetto a quella che fa l'Inter e quindi la trattativa si è inceppata, adesso vedremo la volontà di Jovetic, almeno pubblicamente, sembra essere quella di restare, vedremo se l'Inter sarà d'accordo. Può essere comunque una risorsa per l'Inter e Jovetic, Renato, se tu fossi al posto di Spalletti che cosa faresti con Jovetic? Ma sicuramente è un giocatore importante, un giocatore che ha fatto veramente bene qualche anno fa, adesso si è un po' perso, nel senso che ha fatto, non è stato all'altezza negli ultimi anni, ma un giocatore di grandissima qualità, col modulo che fa Spalletti 4-2-3-1 può essere giocatore che lì gli risolve tanti problemi come trequartista, quindi è un giocatore che ha sempre fatto quel ruolo, l'ha fatto con Prandelli prima alla Fiorentina, l'ha fatto in tante altre squadre. Già questo gol e questo simbolo di rimanere, o comunque di rimanere all'Inter, non è un bel viaggio anche per il Silvio, per chi poi lo deve anche scegliere, perché comunque molto probabilmente la volontà del giocatore è quella di ritagliarsi un posto nell'Inter, o comunque di aver capito che l'Inter è una squadra importante e lui vuole diventare un giocatore importante, oppure si sente ancora importante per un grosso club e l'Inter lo è. Sull'Inter e su Spalletti sentiamo ancora Tito Corsi Spalletti sicuramente è abile nell'impostare la squadra secondo le proprie idee, i propri schemi e lo sta già facendo vedere, anche se all'Inter manca ancora qualcosa. È un'altra squadra che si parte in maniera tranquilla soprattutto, perché mi pare che l'ambiente non sia dei più facili, credo sia una delle squadre che alla fine si farà sentire. Ripeto, Spalletti è un ottimo allenatore, come Montella è del resto, ma l'esperienza e la capacità di velocizzare i propri schemi, cioè metterli in testa i giocatori con tempismo, credo che farà far bene all'Inter e quindi anche a Spalletti. Magari i tifosi dell'Inter si aspettavano degli acquisti di maggior nome e di maggior spessore? Ma l'Inter era una buona squadra anche l'anno scorso, le vicissitudini societarie, non so qualcosa all'interno, perché non può una squadra vincere 12 partite in fila e poi crollare, forse mancava preparazione, può darsi, però la squadra è quella, la squadra ha grossi giocatori, se ci inseriscono ancora il vecino e l'altro attaccante che stanno cercando, manca Icardi in questo momento, è una squadra che ha tutte le carte in regola per poter puntare i primi 4-4 che stanno posti della classifica alla Champions. Ma io credo che l'entusiasmo lo scatena, sì, colpo certo che lo scatena, però lo scatena nei risultati, questa squadra ora piano piano sta macinando gioco, sta facendo risultati e poi a lungo andare la gente dell'Inter che ha fame di risultati, lo so perché mio figlio in casa mia è interista, per cui la fame lo posso toccare con mano e si fa presto a scatenare entusiasmi perché, ripeto, sono i risultati poi che contano. Chissà che di questo entusiasmo crescente intorno all'Inter non possa essere in qualche modo toccato anche Perisic che oggi ha segnato e quindi in qualche modo, chissà, magari lui che sembrava sul piede di partenza mancava l'offerta giusta da parte del Manchester United, sembrava dover partire da un momento all'altro, poi Spalletti adesso sembra averlo blindato, ecco, può diventare anche lui un'arma in più per l'Inter, più di Jovetic naturalmente. In caso di permanenza assolutamente sì, nel ruolo Perisic è uno dei migliori interpreti, non a caso il Manchester United era disposto a spendere oltre circa 50 milioni di euro per acquistarlo, ecco, questo secondo me la dice lunga poi sul valore del croato, Spalletti in realtà però a riguardo è sempre stato chiaro o almeno ultimamente lo è stato anche pubblicamente, però poi nelle segrete istanze del mercato interista aveva fatto presente fin da subito a Sabatini ausilio di voler puntare, di voler trattenere Ivan Perisic, tutto ovviamente resta legato a quella che è la volontà del croato, perché poi tenere un giocatore del genere, magari contro voglia, anche perché Perisic già più di un'occasione è sembrato un po' indolente in campo, quindi tenerlo contro voglia non credo sia la scelta migliore, però insomma ad oggi Perisic sta giocando, sta giocando bene, a quanto dice Spalletti si sta pure allenando bene, quindi se davvero questo è il Perisic che può rimanere all'Inter, secondo me sarebbe un grandissimo colpo per i neri azzurri. Stiamo anche Furio Valcareggi sull'Inter, le sue considerazioni sempre interessanti? Spalletti è il numero uno assoluto, io amo Spalletti, Spalletti è il sogno dei desideri di noi fiorentini, Spalletti è andato là e farà sicuramente cose serie, molte cose non gli piacciono, lui bleffi, dice le cose e lui sta mettendo a posto tutto, vuole gente importante, lui riesce a estrapolare il massimo da questi ragazzi, perché quando un allenatore è bravo quando riesce ad avere il 95% del meglio del calciatore, lui ci riesce spesso e volentieri e quindi ottiene sempre risultati per questa sua grandissima qualità, sta mettendo a posto la squadra, sta facendo una squadra serie, ha giocatori importantissimi, alcuni importanti ma non gli interessano e quindi credo che l'Inter concorra per lo scudetto. Su Vecino sei stato uno dei primi a dire che Spalletti lo gradiva particolarmente? Vecino è un giocatore importante, Vecino è un metronomo del centrocampo importante con soluzioni offensive, Vecino è uno che il telecronista lo nomina 100 volte in una partita vuol dire che per 100 volte ha la palla lui, quindi vuol dire che comanda, Vecino è uno che ha qualità, corsa, distribuzione, tiro in porta. Ti aspetti comunque da parte dell'Inter il grande colpo, il colpo ad effetto, si continua a parlare anche di Di Maria tanto per fare un nome? Dice secondo le mie notizie Di Maria non è uno che fa tanti gol, è un gran giocatore però e allora vogliono un giocatore con più numeri, con più gol nel repertorio e nelle caratteristiche, non lo so, Di Maria è un grande giocatore, tatticamente perfetto, è uno che corre, che gioca bene, è un grande giocatore però credo che non sia Di Maria il colpo. Renato, su Perisic, così facciamo un leggero passo indietro rispetto a quello che stavamo dicendo prima, hai espresso i tuoi dubbi nella volta scorsa quando ci siamo sentiti, quando sei stato qui ospite nella nostra trasmissione, pregi e difetti di questo calciatore che conosciamo, comunque insomma se dovesse rimanere potrebbe essere in ogni caso un elemento in più per l'Inter e che cosa manca adesso all'Inter, dove interverresti? Ma è un giocatore importantissimo, un giocatore che ha delle qualità enormi, il problema che nell'Inter non ha dimostrato tra sprazzi ma soprattutto ha sempre dimostrato di essere un po' indolente e di fare poco la fase difensiva, se Spalletti ci riesce diventa il giocatore più importante che è all'Inter in questo momento insieme ai Cardi, quindi sotto questo punto di vista è un giocatore fondamentale, non so se Spalletti adesso credo sia molto semplice e molto facile, dove comunque il calcio d'agosto ci sono risultati indubbiamente importanti, però è sempre un calcio d'agosto, c'è il mercato aperto e quindi ci sono tante soluzioni ancora disponibili, spero e per Spalletti che si rimane all'Inter di poterlo proprio catechizzare nella mentalità di un giocatore importante che dia non solo il contributo offensivo ma anche a livello difensivo o comunque di impegno perché questo che gli ha spesso mancato anche con dei atteggiamenti poco belli da vedere e questo se riesce a Spalletti in questa impresa è un giocatore non in più, ma due o tre giocatori in più, bisogna vedere se riesce a farlo anche quando poi inizierà il campionato, quando inizieranno le difficoltà, quando inizieranno magari, può succedere anche, non dico qualche contestazione ma qualche fischio, è lì che il giocatore deve assumersi la sua possibilità di diventare importante e avere atteggiamenti giusti. Dove interveresti? Interverrei sicuramente davanti in attacco ma credo che l'Inter fa molto bene in questo senso a non prendere come gli anni scorsi tanti giocatori ma cercare fino alla fine di trovare il colpo o il giocatore come ha detto bene Valcareggi cioè che gli riesca a determinare qualcosa, cioè che migliori la rosa e secondo il mio punto di vista va cercato lì davanti perché ha il completo dietro, ha il completo in mezzo al campo e credo che lì davanti manchi ancora quel giocatore che gli permetta di andare in doppia cifra e anche a volte non sempre si trova la soluzione sotto il punto di vista del gioco ma che risolva le partite anche con una realizzazione e credo che l'Inter sotto questo punto di vista cerchi proprio quel giocatore lì davanti che gli permetta di fare il salto di qualità e sta cercando solo quel giocatore. Stiamo alle valutazioni anche di Daniele Amerini sull'Inter. Credo che il problema dell'Inter ormai da anni è secondo me un po' la mancanza di giocatori di talento e di qualità ma le regole. Secondo me ci voleva qualcuno che arrivasse diciamo col pugno duro anche se è una parola esagerata, comunque con delle regole e credo che Spalletti insieme a Sabatini siano le persone adatte nonostante Ausilio abbia fatto un ottimo lavoro probabilmente aveva bisogno anche di qualcuno che lo supportasse. Io credo che tanti giocatori, tanti talenti che all'Inter specialmente gli slavi, i croati con delle regole possono secondo me diventare davvero determinanti. Perisic sembra essere stato blindato da Spalletti, sembrava dovesse andare via invece alla fine potrebbe rimanere, cosa ne pensi? Ma che farebbero molto bene a tenerlo, io credo sia uno di quei giocatori di cui parlavo appunto prima che possa veramente spostare l'equilibrio di una squadra, quindi l'Inter dovrebbe fare di tutto come sembra che faccia, visto che Spalletti non è sicuramente uno sprovveduto per tenerlo, è chiaro che la volontà del giocatore probabilmente è un'altra ma secondo me appunto con gente come Spalletti con grande personalità possono riuscire anche a convincerlo a rimanere. Questa è la Daniele Amerini disturbato anche simpaticamente dal figlio. Lasciamo dunque il capitolo dedicato all'Inter e apriamo quello sulla Roma. Vi piace la Roma per come è stata costruita fino a questo momento, al di là delle partenze eccellenti che ci sono state, comunque negli ultimi giorni sono arrivati anche dei colpi interessanti. Simone Bernabelli. Mi piace ma manca qualcosa, manca qualcosa che faccia fronte a queste partenze importanti che abbiamo raccontato perché insomma poi per esempio in difesa uno come Rudiger non si sostituisce facilmente, ecco davanti serve qualcosa, l'ha detto Monci è stato chiarissimo, ha detto adesso il nostro prossimo obiettivo è un attaccante esterno a sinistra di piede Mancino quindi diciamo l'identikit è chiaro, i profili non sono tantissimi, i profili adatti alla Roma, adatti alla grandezza della Roma, il preferito resta Marez però qui la valutazione della Roma si scontra con quella del club inglese, fermo, forte nelle sue convinzioni, vuole oltre 50 milioni di euro per il cartellino di Marez. La Roma a certe condizioni non ci sta, ha offerto 30 più 5 di bonus, quindi un totale di 35 milioni di euro, secondo me una valutazione che ci può anche stare visto quello che ha fatto il giocatore nell'ultimo campionato in Premier League, però al momento la quadra non è stata trovata e quindi la Roma continua a cercare questo rinforzo offensivo soprattutto di Francesco, continua ad aspettarlo. Renato ad oggi la Roma può essere competitiva fino a che punto? Io ho la sensazione, ma è la mia sensazione che sia un po' ridimensionamento, ha venduto 3-4 giocatori, secondo me titolari importanti e presi da squadre molto forti, quindi sta cercando di soperire queste mancanze, ma l'allenatore nuovo comunque è un ragazzo, un giovane che ha fatto bene a Sassuolo di Francesco, che però è una nuova esperienza enorme in una città particolare, con una tifoseria incredibile, quindi sotto questo punto di vista è un attore che ha poca esperienza, è nato via Spalletti che era esperienza, che non era già d'accordo precedentemente, sappiamo bene i livelli che ci sono stati e quindi mi sembra Totti rimane, non rimane, insomma tante situazioni che non erano ben definite e che si stanno molto probabilmente, spero per la Roma, definendo, ma mi sembra, ho la sensazione che sia un ridimensionamento, cioè che la squadra non sia migliorata per fare qualcosa di più di quello che ha fatto quest'anno, ma sia una squadra che sta valutando, sta vedendo, ha venduto qualche pezzo, sta cercando di fare gli acquisti che è possibile o che ritengono possibili e quindi sotto questo punto di vista ci sono altre squadre che stanno facendo investimenti, Mila, Inter, ma lo stesso anche Napoli che è riuscito a mantenere i propri giocatori per tutto l'assetto tattico, quello che voleva poi alla fine Sarri e lo stesso presidente del Napoli, quindi vedo una Roma, secondo il mio punto di vista, ridimensionata un pochino per quello che è poi quello che ha fatto quest'anno. Stiamo se d'accordo con te Andrea Cupi, ex giallorosso, oltre che ex calciatore di Empoli e Napoli. Il mercato di giallorossi è un buon mercato, un buon mercato perché stanno facendo una squadra una squadra giovane con degli innesti giovani importanti, dove il direttore sportivo secondo me su questo lato è molto bravo, per cui sta facendo un gran lavoro per far sì che possano anche loro trovare la giusta linea per arrivare a quel traguardo che una piazza come Roma meriterebbe. In questo momento secondo te la Roma è il centrocampo più forte d'Italia con Strotman, Nainggolan, De Rossi, c'è anche Gonalon? È un centrocampo molto forte, un centrocampo che può fare la differenza, perché sono giocatori di nazionale, sono giocatori che hanno una personalità nel giocare a queste categorie, per cui secondo me sono giocatori che possono mettere in difficoltà qualunque squadra, ma a prescindere dal centrocampo è tutto il contesto, il volume della squadra che secondo me può fare bene anche perché hanno un allenatore molto bravo e preparato. Secondo te se dovesse arrivare anche Marez che tipo di obiettivi potrebbe porsi la Roma? Con questo arrivo, con questo giocatore, secondo me già così sono a posto, però con un innesto in più possono arrivare a fare un ottimo campionato, ti ripeto, per superare quell'ostacolo che la Juventus, secondo me diverse squadre devono metterci la determinazione e avere una rosa competitiva per arrivare a quell'obiettivo. Che deve fare invece la Roma a tuo parere con Skorupski che tu conosci molto bene? Skorupski è un portiere che in questi due anni è cresciuto moltissimo, è cresciuto molto a Empoli dove ha avuto un preparatore dei portieri molto importante, Marchisio, che ha permesso di far crescere questo giocatore, giocatore delle potenze tecniche buone, soprattutto tra i pali. È migliorato anche nelle uscite, tecnicamente sta migliorando sempre di più. Io spero che nella Roma abbia la possibilità di avere una chance, perché secondo me può anche rimanere lì alla Roma. Roma che però sembra voler puntare tutto su Alisson, allora mi colgo a secondo me Bernabéi che fare con Skorupski, deve andare a giocare questo portiere che comunque con l'Empoli ha dimostrato di essere più che affidabile. Sì, con l'Empoli ha dimostrato di essere più che affidabile, è da testare, sarebbe da testare con la Roma o con una squadra di pari livello, vero è che sono un altro prestito, non so quanto sarebbe gradito allo stesso giocatore, io penso se la Roma non ci punta, se la Roma vuole puntare su Alisson che Skorupski venga ceduto definitivamente, ecco mi viene da pensare questo. E' arrivato nel frattempo il rinnovo del contratto di Nainggolan con la Roma, Nainggolan che a questo punto più di sempre diventa il simbolo dei giallorossi per la combattività, per l'attaccamento alla maglia che ha dimostrato anche Renato. Beh sicuramente è un giocatore straordinario, un giocatore di una potenza, di una qualità eccezionale, il giocatore che più rappresenta in questo momento la Roma insieme a De Rossi proprio per cattiveria, per continuità, per forza fisica. Indubbiamente nel centrocampo di Di Francesco che gioca un 4-3-3 ci sono quattro centrocampisti se non il centrocampo più buono del campionato. Però ripeto, in questo caso Nainggolanamente con Spalletti giocava anche come tagliartista dietro la punta dove si inseriva e riusciva a dare anche il contributo per giocare nei tre di centrocampo perché non può perché giocando con gli altri tre punte quindi insomma anche sotto questo punto di vista qualcosa cambia, è da verificare. Stiamo a cosa pensa a proposito del rinnovo di Nainggolan, Furio Valcareggi? Il suo procuratore è un mio caro amico Alessandro Beltrami, ha fatto un bel contratto, lui vuole rimanere là, vedi? Nainggolan è voluto rimanere lì e lì è rimasto perché Sante Lusing aveva, questi lavori, questi sono i giocatori. Lui poteva andare, l'ha detto ma io vado in giro per cosa, devo cambiare a casa, io sto bene a Roma, è lì è stato e lì rimane, bellissimo, il trionfo di un connubio, il trionfo di un affetto, di un amore professionale. Poi c'è Strotma che è grandissimo, De Rossi che mio modestissimo parere quando sta bene è il miglior centrocampista del mondo, poi a fianco ha messo dei giocatori bravi, dietro sono tutti bravi e quindi la Roma farà sicuramente questo. Monci mi dicono, io non lo conosco, ho provato a cercarlo Massara, Fredrik, mio caro amico, me lo doveva presentare ma poi non c'è stata l'occasione, ma mi dicono che questo Monci sia un uomo di grande sapienza, di molta intelligenza calcistica, che sia un grandissimo dirigente, quindi complimenti alla Roma che ha preso questo signor Monci che farà molto bene, sono sicuro. Grandi elogi per Monci da parte di Furia Valcareggi, in 20 secondi Renato, anche a tua parere De Rossi è il più forte centrocampista del mondo, se sta bene? Oddio, del mondo non lo so, se sta bene è uno dei più forti in Italia, nel mondo insomma ce ne sono i centrocampisti di quel valore, di quella caratura sicuramente. Ci dobbiamo fermare ancora, restate con noi, non andate via!